Ciao a tutti, noi siamo Andrea Benedetta e grazie a Sevillas stiamo passando 15 fantastici giorni qui alle Seychelles. Il nostro itinerario si è sviluppato su tre isole, siamo partiti da Maè che è l'isola principale per poi spostarci alla DIG ed infine arrivare a Pralena che è l'isola dove ci troviamo in questo momento. Nello specifico siamo nella Val de Me che è un parco nazionale, un posto meraviglioso per gli spiriti più avventurosi e abbiamo scelto di fare il video da qui appunto per mostrarvi che le Seychelles non sono soltanto spiagge bianche e mare trasparente ma c'è molto altro da scoprire. Abbiamo scoperto un popolo meraviglioso, ci siamo trovati benissimo in tutte le strutture dove abbiamo alloggiato, si mangia benissimo, vi consigliamo di venire il prima possibile. Anche perché ci sono le tartarughe giganti che è qualcosa da vedere nella vita. Grazie ancora a Seychelles e buone Seychelles a tutti. Ciao!